Mi scusi, ma quel matto stanotte non siamo riusciti a chiacchiapparlo. Quello mi ripeteva me lo tavo e me lo metto, l'altro continuava con l'impatto dei massi dei giberni, il terzo dava la colpa al cavallo e il quarto, il quarto, voleva assolutamente che gli regalassi i capelli. Ci sono due persone che tirano a tua figlia e dicono che è morta l'azia. È morta? Ti faccia entrare. Oh scusi, che notizie vi portate di mia sorella? Quando è morta? Sua sorella, ma chi la conosce? Noi veramente volevamo parlare con l'Armida. Non avete detto all'infermiera che è morta mia sorella? A che ora è morta? Veramente, la zia. Sì. Sì, la zia. La zia. La zia di mia figlia, mia sorella. Io di sera erano ribonda e ora è morta. Allora, condoglianze. Grazie. Grazie. Ma che condoglianze? Un corno. Non state portando voi stessi la notizia che mia sorella o la zia di mia figlia è morta? Noi, veramente. Ma sangue di mille diavoli. Non siete stati voi a dirgli per niera che mia sorella o la zia di mia figlia è morta? La zia di sua figlia. Sì. La zia. La zia di sua figlia. La zia. La zia. La zia. Sì, la zia. La zia di mia figlia. Mia sorella.